Dopo 5 mesi Sofì incontra il fratello più piccolo, Ricky, con cui ha un rapporto speciale. Al grande fratello Vip un momento di grande tenerezza per Sofì Codegoni, che dopo 5 mesi ha incontrato il fratello, Ricky, di 12 anni. Tra loro c'è un rapporto speciale, visto che lei ha avuto un ruolo quasi materno. Prima dell'incontro Codegoni ha raccontato la sua storia familiare, dopo la separazione dei genitori avvenuta quando lei era piccolissima. Avevo 3 anni, non l'ho vissuta, ma loro sono stati bravissimi, hanno conservato un grande rapporto. Però sì, all'improvviso mi sono trovata in una casa diversa dove papà non c'era fisicamente, ma era sempre presente. A lungo andare posso dire che ho sempre avuto due spalle, questo è in un certo senso il lato positivo della cosa. La nascita di Ricky dopo la separazione dei genitori Alcuni anni dopo la madre ha conosciuto un altro uomo e dalla loro relazione è nato proprio Ricky, poi mia madre ha ritrovato l'amore, il papà di Ricky. Per me lui è più di un fratello, ma un figlio, abbiamo un rapporto unico. Il papà di Ricky lavorava spesso, era fuori casa, quindi lo abbiamo cresciuto io e mamma, ma per un periodo abbiamo avuto difficoltà economiche e anche mia madre non c'era, quindi io sono stata una madre. C'è una foto che conserviamo a casa in cui io addirittura l'ho all'atto. C'è una foto che troviamo a casa in cui io addirittura l'ho all'atto. C'è una foto che troviamo a casa in cui io addirittura l'ho all'atto. C'è una foto che troviamo a casa in cui io addirittura l'ho all'atto. Ciao!